ciao amici benvenuti sul mio canale faccio questo piccolo blog per farvi tanti ma tanti auguri di buon anno questa sera aspetterò la fine dell'anno l'inizio dell'anno nuovo in un canale da ballo quindi vado con degli amici con le mie sorelle a festeggiare noi naturalmente ci vedremo già da domani perché ho già fatto un impasto anche se ero molto indaffarata ho fatto un impasto per il pane per domani perché naturalmente iniziamo l'anno nuovo e ci vorrà un pane di inizio anno per il pranzo di capodanno io vi ringrazio veramente a tutti perché il mio canale sta crescendo giorno per giorno arrivano sempre nuovi iscritti e ne sono veramente felice quindi ci vediamo presto sempre sul mio canale Erika Brombetta vi faccio tantissimi tantissimi auguri che sia un anno pieno di cose belle di felicità per tutti e di tanti impasti ok ciao ciao a tutti